Nuova operazione dei carabinieri della compagnia di Siniscola diretta dal capitano Andrea Senes contro il commercio ambulante abusivo lungo le spiagge della costa nord-orientale dell'isola, ricomprese tra Orosei e Sant'Eodoro. I militari nel corso di una serie di controlli hanno sanzionato 19 venditori ambulanti extracomunitari in quanto resisi responsabili di vendita ambulanti in area demaniale senza la prescritta autorizzazione. Per due commercianti invece è scattata una denuncia in quanto sono stati trovati in possesso di numerosi articoli col marchio contraffatto. Il bilancio finale dell'operazione dei carabinieri ha portato al sequestro di 1.760 oggetti mentre sono state rilevate contravvenzioni per un totale di 90.000 euro. Nel corso delle operazioni mirate al contrasto del commercio abusivo i carabinieri si sono imbattuti in due cittadini pakistani trovati uno alla guida di un'auto con patente internazionale falsa l'altro di un veicolo che era dotato di un tagliando assicurativo contraffatto. I due sono stati denunciati. Quello delle patenti false è un grave fenomeno che già nei giorni scorsi era stato all'attenzione dei militari della compagnia di Siniscola che avevano denunciato alcuni cittadini extra-comunitari di paesi per i quali non è consentita la conversione con la patente italiana trovati alla guida di veicoli con documenti abilmente riprodotti. Altro elemento preoccupante in questo caso è l'utilizzo di veicoli privi di copertura assicurativa che in caso di Sinistro sono privi di tutela verso gli utilizzatori e verso terzi.